Quando la propaganda non ha confini si trasforma in eventi che hanno del surreale. È il caso della campagna Novax che ieri ha dato vita ad un sorvolo aereo con tanto di striscione e antivaccini sulle spiagge romagnole. Eppure l'Emilia-Romagna è una delle regioni più dure nei confronti di chi non vaccina i propri figli. Una questione che a pochissimi giorni dalla riapertura delle scuole è ancora tutta da definire. Le rassicurazioni del ministro dell'istruzione Bussette e i presidi di qualche giorno fa che sollevano le scuole dalla responsabilità di autocertificazioni false e ribadite anche questa mattina non hanno chiuso per nulla la questione e il caos regna ancora sovrano. Con un ministero della salute che continua a rimandare qualsiasi decisione ad atti futuri e le regioni che invece scelgono la tutela della salute dei bambini. E così se in Emilia-Romagna, a Bologna i messi comunali andranno casa per casa a verificare le avvenute vaccinazioni di chi ancora non è in regola sono annunciati controlli a tappeto un po' ovunque in collaborazione con le anagrafi vaccinali in grado di dare riscontri immediati sulla veridicità delle autocertificazioni senza lasciare scampo a chi ha dichiarato il falso. La scelta di presidi e amministrazioni è una sola e per una volta unisce tutto il Paese. Si va avanti con il decreto Lorenzin, niente vaccini, niente scuola. Nemmeno dopo l'eventuale approvazione del decreto prevista per il 24 settembre che prorogherebbe al prossimo anno la questione lasciando il tempo di approvare il cosiddetto obbligo flessibile. Ma di flessibile, quando c'è in ballo la salute dei bambini, non deve esserci nulla.